E' una bellissima esperienza, la prima convocazione israeli, ho fatto due partite, la prima ho giocato abbastanza bene, la seconda un po' meno, però devo ancora integrarmi nel gruppo. La mia prima convocazione ha avuto molta emozione, moltissima adrenalina, forse ho fatto qualche sbaglio, un po' di troppo, forse ragni per quello, ma spero di vivere in questo. Per le prossime convocazioni spero di essere, di dare il massimo per la mia anziana. Sono stato molto contento di questa convocazione, di un impegno che abbiamo svolto in Israele, è stato molto positivo comunque, anche il mio esordio, sono soddisfattissimo di quello che ho fatto, speriamo comunque che il mio cammino possa continuare con questo gruppo, perché è formato da ragazzi fantastici e mi sono trovato sin da subito bene. Credo che quelle due partite in Israele sono state molto importanti, sono molto contento di approccio della partita, i ragazzi sono stati molto bravi, le prime partite abbiamo giocato molto bene difesa e anche se non siamo andati lì completi, siamo da 5-6 giocatori e tutti i titolari, altri ragazzi sono risposti molto bene. Prima di tutto dovevo sottolineare il ritorno di Volpi che è stato bravissimo, soprattutto prima partita in difesa, poi anche in attacco ho giocato bene, ho risposto molto bene anche in attacco, seconda partita e una cosa importantissima è il suo ritorno nel giro di nazionale. Che posso dire, seconda partita non siamo stati completi, anche seconda partita abbiamo dato un po' spazio anche ai più giovani ragazzi e si è visto che ci sono anche giovani ragazzi in Italia che si può credere nel futuro è ora questo stage, stiamo facendo un po' prepararsi più tatticamente e psicologicamente per questa partita contro Gran Italia e dobbiamo sfruttare questi due o tre giorni e anche organizzarsi molto bene per fare un programma che è quello nostro imperativo, giochino mediterranei in giugno. Ripeto, sono contento di Israele, sono contento di questo gruppo e credo che questo gruppo può giocare contro tutti e rappresentare bene l'Italia ai giochi mediterranei.